E ritorniamo in studio. Oggi è l'8 di marzo, una giornata per ricordare e ancora di più far riflettere sul ruolo della donna nella società. Molteplici figure e tante responsabilità che mettono in luce l'importanza delle donne e dei loro impegni e responsabilità di cui ogni giorno si fanno carico. Nonostante le conquiste, negli anni le donne restano ancora vittime di numerose violenze. In Italia nel 2012 sono state 124 le donne uccise. L'8 marzo è la data che in calendario segna la festa internazionale della donna. Non è sicuramente un solo giorno all'anno che madri, mogli, imprenditrici, operaie e tutto ciò che una donna riesce ad essere dovrebbero vedere sottolineate le loro attività ed esaltate le loro qualità. Forse è il caso che si rifletta sul fatto che nonostante tante conquiste, il sesso femminile rimane vittima di molti soprusi e violenze in diverse parti del pianeta. In Italia il femminicidio è una piaga che nel 2012 ha visto morire e uccise 124 donne. Ciò che più deve far riflettere è che in base al rapporto di telefono rosa si consumano tra le mura domestiche in presenza di una relazione sentimentale la maggior parte di esse. Uno scenario che allarma e che sottolinea ancora una volta come quello femminile sia ancora in questo senso il sesso debole. Negli anni le donne hanno lottato per i loro diritti e si sono messe in prima linea per difendere i valori in cui credevano. Per questo il giorno dell'8 marzo dovrebbe essere una data simbolica che invita a riflettere sul ruolo della donna tutto l'anno. Madri impegnate nella crescita dei figli, mogli, donne che lavorano in aziende e in politica e che ogni giorno sacrificano anche tempo alla famiglia per poter contribuire ad un futuro migliore della società. Insomma, una figura che merita di essere festeggiata 365 giorni l'anno e che è importante non venga mai sottovalutata e soprattutto che venga difesa da quello che ancora la minaccia. Ieri pomeriggio l'Università per la terza età di Alghero ha ospitato la proiezione dello spettacolo La Scelta e tu cosa avresti fatto? Quattro storie vere di coraggio che narrano l'esperienza di uno dei conflitti più atroci dei nostri tempi, ossia la guerra civile che ha insanguinato la ex Jugoslavia. Abbiamo intervistato Marco Cortesi e Mara Moschini, entrambi registi e attori dello spettacolo. Siamo in compagnia di Marco Cortesi e Mara Moschini, sono entrambi registi e attori dello spettacolo La Scelta. Chiedo proprio a te Marco, che cosa tratta questo spettacolo? Lo spettacolo porta in scena quattro storie vere di coraggio, coraggio civile, quindi fra persone comuni. All'interno dello scenario dell'ex Jugoslavia, della guerra civile fra gli anni 1991 e 1995. Nello spettacolo, alternando le nostre voci, mia e di Mara, noi raccontiamo, portiamo in scena quattro storie effettivamente raccolte con un piccolo registratore sui campi di battaglia. Quattro storie che a dire il vero sono state raccolte da una persona decisamente importante. Lei si chiama Svetlana Broz ed è ufficialmente la nipote del maresciallo Tito, cioè una delle persone più importanti alla fine della Seconda Guerra Mondiale, il padre della Jugoslavia moderna. E noi raccontiamo queste quattro storie, questo è quello che facciamo. E allora io chiedo a Mara Moschini, perché portate questo spettacolo in giro per l'Italia? Come raccontava Marco, sono quattro storie di coraggio civile, sono persone che hanno fatto una scelta e questa scelta ha cambiato il destino di altre persone che rischiavano in quel momento la vita e che invece vengono salvate. La cosa importante per noi è partire da quel contesto lì e riportarlo un po' alla quotidianità. Vorremmo che la gente riflettesse un pochino di più sull'importanza delle scelte, quindi del coraggio, non tanto in situazioni estreme come quelle della guerra che speriamo davvero di non vivere mai, ma nella quotidianità. Quindi partire dalle scelte importanti giorno per giorno. E' stata davvero apprezzata da studenti e visitatori dell'istituto tecnico ROT l'esperimento denominato un giardino a scuola. L'allestimento è stato reso possibile grazie al contributo gratuito del consorzio Floro Vivaisti Algheresi, che hanno dato vita a un magnifico giardino mediterraneo sia all'ingresso che all'interno della scuola. Lo scopo naturalmente è quello di diffondere la cultura del verde. Si è concluso nel migliore dei modi l'esperimento dell'istituto di istruzione superiore ROT per diffondere la cultura del verde all'interno del sistema urbano. Infatti, grazie al contributo gratuito del consorzio Floro Vivaisti Algheresi, costituito da un gruppo di esperti vivaisti e paesaggisti, la cui bravura la cittadinanza aveva avuto modo di apprezzare nella realizzazione degli addobbi natalizi, è stato allestito un magnifico giardino mediterraneo composto da vegetazione tipica della Sardegna, che ha abbellito sia il viale d'ingresso della scuola che l'interno della stessa. Tutta la componente scolastica ha vissuto con orgoglio il progetto che ha coniugato educazione, attenzione per l'ambiente e partecipazione civica, e va anche rimarcato il rispetto che gli alunni hanno manifestato verso le composizioni floreali, unitamente al plauso di numerosi visitatori. Viene così confermato che l'educazione all'ambiente e alla natura può avere un contributo importante dalla scuola e ci si augura che tali iniziative siano la premessa per la riqualificazione delle aree verdi antistanti i caseggiati scolastici, ma anche all'interno degli stessi, trasformandoli in ambienti dove il verde contribuisce a creare un ambiente piacevole, sereno, gradevole e che aiuta ad apprendere meglio. Dal verde allo sport, domani alle 19 al Pallacorbien, programma il confronto tra Mercedes Basquette Alguero e il Val Madrera. Le bianco-azzurre, già certe di partecipare ai play-off, cercheranno la vittoria contro l'undicesima della classe. Domani, sabato 9 marzo alle 19, il Pallacorbien sarà teatro di Mercedes Basquette Alguero C. Logistics System Starlight Val Madrera, match valido per la ventitresima giornata del Girone Nord del campionato di Serie A2 di pallacanestro femminile. Le algheresi, nonostante il 71-59 subito domenica sul parquet del Lops a Redisanga Milano, sono già certe di partecipare ai play-off, essendo seste a pari punti con la Delser Club Udine, con otto lunghezze di vantaggio sulla decima piazza, occupata dal basket San Salvatore Selargius, quando i punti ancora in palio sono solo sei. Al Madrera riduce dal 39-44 interno subito per mano della Senna Vimar Jans Marghera e invece undicesima a pari punti con la Virtus Cagliari e sarà quasi sicuramente protagonista dei play-out salvezza. Rispetto al match d'andata vinto 54-63 l'8 dicembre dalla Mercedes al Pala Leopardi, da gennaio ci sono tre novità nel roster affidato a coach Tiziano Gualtieri. Ha lasciato la squadra la 22enne play-guardia Francesca Pozzi, mentre sono arrivate la 27enne ala Carolina Scibelli e la 26enne pivot Dunia Vujovic, bosniaca. Era già stata a Val Madrera nell'anno 2009-2010, mentre ha giocato in A2 con Crema, che in quelle due stagioni aveva lo stesso attuale sponsor di Val Madrera e Sesto San Giovanni. In conclusione vi comunico che la palestra Centro Sport Combat organizza per domani poveriggio alle 18 nella sala conferenza del Quartessa IAL una dimostrazione di sport da combattimento. Prenderanno parte diversi atleti di varietà nelle varie discipline. L'ingresso è libero. E come detto era l'ultima notizia dell'edizione di oggi del nostro telegiornale. Vi lascio al meteo, vi ringrazio per averci seguito. Arrivederci.